Per me cantare il cerchio della vita è incredibile, ancora non ci credo che l'ho fatto. È stata la più grande sfida della mia vita. Per me di farlo italiano è un'enorme responsabilità a tutti i ragazzi e le persone che ascolteranno questo brano. Abbiamo lavorato molto per correggere tutte le T, tutti i vocali aperti e speriamo che questo brano si senta con il cuore. Io devo dire che io mi vedo molto in Simba perché è qualcuno che sta cercando la sua strada, la sua strada imposta in questo mondo come tantissimi di noi e questo nella vita non si ferma. Però io devo dire che siamo sempre alla ricerca di chi siamo veramente. E' una giostra che fa questa vita che gira insieme a noi. Tutte le nostre aspettative saranno realizzate perché è una cosa incredibile. Disney è sempre ogni cosa che fa, è sempre magia. Quest'anno 2019 hanno fatto di nuovo la magia a Disney e sono così felice di fare parte di questo. Vi aspettiamo tutti quanti al cinema per vedere questo movie storico, Il Re Leone, il 21 agosto. I'll be waiting for you. Will you be waiting? Andiamo? Andiamo? Si, andiamo? Ci vediamo a Leone.